Da Babeli alla Macedonia, ci occupiamo di emigrati e ci occupiamo di processi migratori che avvengono in tutto il mondo, anche in Occidente. In Occidente ci sono parecchi dubbi su questi fenomeni di migrazione e la Chiesa invece ha un atteggiamento piuttosto condiscendente. Chi ha ragione? Hanno ragione gli Stati quando cercano di regolamentare un processo piuttosto complesso e grave. Ha ragione la Chiesa quando richiama gli Stati ad avere questa larghezza di accoglienza. Quindi hanno ragione tutti e due. Il problema è che ne uno ne l'altro hanno trovato delle definizioni, a mio avviso, per quello che riesco a capire, in maniera puntuale, precisa, che sia veramente di aiuto. Allora, a partire dalla Chiesa, ne abbiamo parlato ancora ultimamente di misericordia, non può se non essere portata inevitabilmente all'accoglienza. L'accoglienza che abbraccia per principio tutti coloro che sono nel bisogno. Gli Stati fanno bene a sentire questo richiamo della Chiesa, ma nello stesso tempo a capire che non si può, dentro questo fenomeno complesso, aprire le porte a tutti, a qualsiasi condizione e in qualsiasi maniera. Quindi bisogna trovare, ad agio ad agio, con il richiamo di fondo e con la legalità e la concretezza degli Stati, dobbiamo trovare un sistema che possa funzionare a beneficio dell'uomo, a beneficio delle comunità, ma non essere così ingenui da accogliere in maniera indiscriminata qualsiasi... Certo, però è anche vero che qualcuno dice che in realtà è un processo mediatico quello che sta accadendo intorno ai migranti, per cui i fenomeni migratori non sono poi così diversi, di fatto c'è sempre stato un fenomeno migratorio, semplicemente oggi assume una caratteristica più particolare perché è anche più visibile dal punto di vista globale. Ma certo che il fenomeno migratorio è sempre stato così, è sempre stata una realtà normale nel procedere della civilizzazione o della civiltà. Beh, noi abbiamo una storia, la Bibbia è fatta di un popolo che migra, no? Certo. Se volendo. Però dopo si affrontano diversi problemi. I fenomeni migratori sono stati, a mio avviso, nel passato, soprattutto per bisogno di benessere. Il fenomeno migratorio che è partito dall'Italia, per esempio, piuttosto che dal Ticino, erano alla ricerca di qualche cosa che potesse soddisfare un benessere dignitoso della vita materiale. Però nessuno partiva con l'idea di fare del male nella situazione o nella comunità ospitante, ma partiva comunque nel desiderio di integrarsi in questa comunità. Oggi, a mio avviso, il problema non è più solamente nella ricerca di un benessere materiale, dignitoso per la vita umana. Oggi ci sono di mezzo dei problemi politici complicatissimi, insomma, dove oltretutto gli stati occidentali o comunque di cultura occidentale, vedi, gli Stati Uniti, a mio avviso, per il poco che so, hanno fatto anche dei disastri, per cui hanno come buttato dentro una enorme pietra in un secchio che era già abbastanza pieno d'acqua. E' evidentemente che queste cose qui hanno prodotto un disastro. E di fatti ci troviamo a dover inevitabilmente a gestire dei problemi politici che non sono solamente il problema della fame sub-sahariana. Qui ci troviamo di fronte a problemi politici, per cui abbiamo una paura non dell'emigrante che arriva da noi per chiedere il pezzo di pane e una dignità di vita, ma abbiamo paura del terrorismo che ci arrivi in casa, per esempio. Cose che 40, 50, 60 anni o 70 anni fa non era così evidente. C'è anche un fenomeno di frammentazione delle comunità, probabilmente, nel senso che ci sono delle comunità che arrivano e non si integrano, per esempio, con il paese ospitante. Questo è un problema molto grave, anzitutto perché l'Europa, che in questo momento è quello che ci interessa, che sta assumendo il fenomeno migratorio, non ha più un'identità, quindi non ha più punti di riferimento. Capite che, ad esempio, ricevere degli emigranti musulmani in paesi dove ormai il matrimonio omosessuale è alla portata di tutti, c'è uno stridore all'interno delle identità che non trovano più un punto di riferimento consistente. Quindi le comunità nazionali o internazionali, pensiamo alla nostra Europa occidentale, non ha più un'identità, cioè dei punti di riferimento, per cui anche il problema dell'accoglienza, nel caso fosse appunto accolto o accettato, non ha dei parametri in cui gestirla questa accoglienza. E quando parliamo di integrazione, cosa vuol dire integrazione? Su che valori vogliamo integrare? Su una vaga democrazia? Su un'immagine di famiglia, di matrimonio che gli altri non neppure riescono a capire? E quindi il problema è all'interno del problema stesso. Quando diciamo integrazione che cosa intendiamo? Le leggi dello Stato? Ma quali leggi dello Stato che non sono condivisibili per loro neanche per la metà? Meno per quello che io capisco non è più l'emigrazione di cent'anni fa, ha tutti altri parametri, ha una fenomenologia totalmente diversa e quindi io riesco a capire che non essendoci più un aspetto antropologico, un'immagine di uomo accettabile, dignitosamente accettabile, è logico che ci dobbiamo regolare o dobbiamo difenderci solo attraverso delle leggi. Le leggi sono sempre adeguate a costruire una società che sia umana? Non lo so. Le leggi sono sempre adeguate a costruire una società che sia umana? Non lo so.